Baccalà in fiore Cosa hai recuperato come ingrediente? Maionese, vongole e baccalà Ma la prova l'hai capita? Recuperare l'ingrediente per dargli una nuova vita? Infatti a maionese ci ho aggiunto le bietole E va bene Le vongole le dovevo passare con una crimina al limone che non ho fatto Perché le hai messe nel piatto? Perché ormai le avevo presa Le hai messe nel piatto delle vongole in sapore E adesso io devo giudicare quell'ingrediente Speriamo nei fiori Che ci riscano Allora, ti spiego già subito una cosa Quando si decide di friggere un fiore di zucchina Questo elemento Cioè il pistillo Va torto Eh, l'ho fatto con due Che è la cosa più difficile Ne hai fatto con due Ok, io ho beccato quello che c'era Sì Mi dispiace per te È la fette Grazie, Sessi Pistillo, qual è la cosa che proprio più mi rode? Perché io mi sono fermata a dieci secondi per toglierlo E ho detto, vabbè dai, l'ultimo E vabbè Vedremo 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 Vedremo